Il verde e l'aria fresca di Baiardo hanno invece fatto da cornice ad una giornata di musica allegria nell'albergo Casa Famiglia Antonio Taggiasco. Gli ospiti collaboratori e gli amici hanno trascorso la giornata di martedì 16 agosto in compagnia di DJ Tex con balli, musiche e karaoke. Al termine il paroco Don Ferruccio ha celebrato la messa in onore di San Rocco. L'albergo Antonio Taggiasco di Baiardo accoglie clienti per brevi o lunghi periodi di soggiorno e recupero a 900 metri d'altitudine in un ambiente familiare. Grazie a tutti.